I comitati scrivono e la Regione prontamente risponde. Oggetto della missiva è la questione FAS, o meglio, la convocazione di un tavolo regionale a tre comitati, Regione e Governo. Obiettivo fare chiarezza e fugare ogni dubbio o incertezza su un tema particolarmente delicato, i FAS, e che ha visto nei mesi scorsi fronteggiarsi Regione Veneto e Ministero della Salute. La richiesta è di convocare il tavolo allargato anche a Cipe e Veneto Acque entro il 31 gennaio e la Regione è appunto sedetta disponibile. A volere risposte però non sono solo i comitati, la stessa amministrazione regionale è in attesa di chiarezza da Roma su questioni importanti, in primis gli attesi 80 milioni di euro annunciati dal Governo per realizzare i cosiddetti acquedotti zero FAS che permettono di eliminare definitivamente il problema della contaminazione. Ma si sa che a tempo non aspetti tempo e la Regione non è rimasta con le mani in mano, attivandosi subito. Noi abbiamo già deliberato per dare una batteria di filtri a tutto il Veneto, a prescindere dai FAS e tutti i nuovi inquinanti che ancora oggi magari non si conoscono. Partiamo da un presupposto, aprire il rubinetto e avere acqua pulita. Confinanziamento regionale approvato dal Consiglio pochi giorni prima di Natale. Se nel filtro si è fermato il FAS piuttosto che il mercurio o altri inquinanti che non conosciamo, ricordo che i FAS sono dei nuovi inquinanti e quelli li andremo poi a scovare all'origine, ma è bene che a casa arrivi acqua pulita. C'è poi la questione della plasmaferesi. Il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno puntato il dito contro la misura sanitaria adottata dal Veneto, che prima di Natale ha deciso di interromperla, ma ora la palla passa a Roma e Venezia attende chiarimenti tecnici e indicazioni per eventuali terapie alternative.